Questa mattina sono partiti dei bus direzione Roma da parte della società Royal Bus e il presidente ci ha confermato la vendita di questi otto bus. Entro lunedì dovrebbe arrivare il bonifico da parte di questa società acquirente e entro martedì dovrebbe pagare gli stipendi arretrati da quello che lui ha dichiarato a noi questa mattina.